Renata Marini è spesso confusa con altre voci del doppiaggio, ad esempio su un'elefantessa in Dumbo o sulla rosa di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma un ascolto più accorto ci permette di constatare che si tratti invece di Laura Carli. Alla notte io non riesco a dormire e allora me ne sto accanto alla finestra a vedere la gente che passa e così ho visto lei che parlava con quella signorina. Parlava di questa casa come se fosse sua. Si vede... No, 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 non c'è bisogno di giustificarsi. ...di farne, cielo non lo posso dire. Parla, su! Mi hanno fatto un clao. Un pagliaccio! Un clao! Bene, bene, salta dentro cara altrimenti ti farai tardi. Ma io... Su, via, via, non cercare di ringraziarmi. Oh no, cioè sì, ma, ma non vi sembra che il mio vestito... Sì, è molto carino, molto... Santo cielo piccola, non puoi andare così! Ma certo che parliamo, mia cara! Ragazze, canteremo nel Meriggio d'Oro, riguarda tutti noi. Dacci là, Giglio! È meravigliosa! Grazie, cara!